Stiamo facendo delle prove Soltando dall'LP Bisogna Vivere e Gianni Morandi con Solo Insieme Saremo Felici Stiamo facendo delle prove Le nuvole Ma adesso ci ascoltiamo anche cosa avevi in mente di Antonello Venditti Allora vi ricordiamo che tutto questo ci sarà sabato 14 novembre alle ore 16 proprio in vetrina del negozio Gatti Store Fidenza Quindi vi aspettiamo numerosissimi Grazie a tutti